I nuovi dispositivi Kindle segnano un'ulteriore rivoluzione nel mondo della lettura digitale, arricchendosi di modelli che non solo perfezionano l'esperienza di lettura, ma introducono anche funzionalità avanzate per la scrittura. Con una gamma diversificata pensata per soddisfare ogni esigenza, dai lettori occasionali a quelli più esigenti, i nuovi Kindle combinano leggerezza, autonomia e tecnologie innovative, capaci di cambiare il modo in cui interagiamo con i libri e la scrittura digitale. In questa guida vi presentiamo i nuovi modelli approfondendo le caratteristiche e i prezzi attuali, in modo da fornire all'utente interessato tutte le informazioni necessarie a compiere un acquisto più consapevole e adatto alle proprie esigenze. Vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate potete farlo comodamente dai link che trovate proprio qui sotto, nella descrizione del video o nel primo commento. Partiamo dal modello base e più economico, chiamato semplicemente Amazon Kindle. Offre il design più leggero e compatto della nuova famiglia di Kindle, perfetto da portare con sé ovunque con comodità. Con una memoria di 16 GB, offre spazio sufficiente per migliaia di libri, riviste e fumetti, rendendo possibile avere un'intera libreria a portata di mano. Lo schermo antiriflesso da 6 pollici dotato di illuminazione frontale regolabile garantisce una lettura confortevole in ogni condizione di luce. Rispetto ai modelli precedenti, l'illuminazione è più luminosa del 25%, mentre la modalità scura offre un'ulteriore opzione per chi preferisce leggere in condizioni di luce bassa. Tutti i Kindle, soprattutto nelle versioni senza pubblicità che vi consiglio, sono progettati per offrire un'esperienza di lettura priva di distrazioni, ideale per chi desidera immergersi completamente nei propri libri, senza interruzioni da messaggi o notifiche. I cambi pagina sono stati resi più rapidi, assicurando una navigazione fluida fra i capitoli, e l'autonomia della batteria raggiunge fino a 6 settimane con una singola ricarica tramite USB-C. È il Kindle più semplice e compatto della nuova famiglia, e con il suo costo di 119,99€ per la versione senza pubblicità, è anche il più economico. Trovate il link qui sotto in descrizione. E abbiamo anche l'ultimo aggiornamento del fantastico Kindle Paperwhite, pensato per migliorare ulteriormente l'esperienza di lettura, grazie a una serie di funzionalità avanzate e un design studiato per il massimo comfort. Con un display antiriflesso da 7 pollici, offre un contrasto migliorato e un cambio di pagina più rapido del 25% rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo, disponibile con 16 o 32 GB di memoria, garantisce ampio spazio per migliaia di libri, riviste e fumetti, perfetti per chi desidera avere un'intera libreria sempre con sé. Un altro punto di forza di questo Kindle è la lunga durata della batteria, che può estendersi fino a 12 settimane con una singola ricarica tramite USB-C, permettendo di godersi anche lunghe sessioni di lettura senza preoccuparsi della frequente necessità di ricarica. Un'altra caratteristica apprezzabile è la tonalità della luce regolabile, che consente di adattare lo schermo da bianco ad ambra, per leggere comodamente in ogni condizione di luce, sia al buio che sotto la luce diretta del sole. Questo rende il Kindle Paperwhite ideale per ogni situazione, sia in ambienti interni che all'aperto. Il design sottile e leggero del dispositivo, unito alla sua resistenza all'acqua, rende il Kindle Paperwhite un compagno perfetto per chi ama leggere ovunque, anche in ambienti umidi come piscine o vasche da bagno. È uscito da poco e sta già andando a ruba, piazzandosi ai primi posti delle vendite. Per le versioni senza pubblicità abbiamo un costo di 179,99€ per il 16GB, mentre la versione Signature Edition da 32GB costa 199,99€ e oltre ad offrire uno spazio maggiore, integra anche la ricarica wireless e la regolazione automatica della luminosità. E ora passiamo a novità adatte a chi cerca qualcosa in più di un semplice dispositivo per leggere libri elettronici. Il nuovo Amazon Kindle Scribe rappresenta una fusione perfetta fra e-reader e taccuino digitale, offrendo un'esperienza di lettura e scrittura estremamente versatile e unica nel suo genere. Con un ampio schermo antiriflesso da 10,2 pollici e una risoluzione di 300 pixel per pollice, questo dispositivo consente di leggere e scrivere in qualsiasi condizione di luce, sia all'aperto che in ambienti interni, garantendo una nitidezza e una comodità visiva ottimali. È disponibile con memoria da 16, 32 o 64 GB, offrendo spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di libri, documenti e appunti. Come sappiamo, la rivoluzione apportata dai Kindle, rispetto alla lettura di un libro elettronico, ad esempio su un tablet o un PC, è il tipo di schermo basato sulla tecnologia ad inchiostro elettronico, che fornisce la sensazione unica di una lettura simile a quella classica con i libri di carta, quindi senza stancare la vista in modo eccessivo. Attraverso il nuovo Kindle Scribe avviene la stessa magia con la scrittura, offrendo una sensazione estremamente vicina a quella che si prova scrivendo su un vero e proprio foglio di carta. Merito anche del nuovo schermo ridisegnato con bordi bianchi, sottili e uniformi. Ed è proprio questa la principale differenza fra lo scrivere ad esempio su un qualsiasi tablet e su questo Kindle Scribe. Ed è anche uno fra i motivi per il quale si dovrebbe scegliere di acquistare un dispositivo come questo, pur avendo già un tablet a disposizione. La penna premium inclusa è ottimizzata per un'esperienza di scrittura fluida e precisa, includendo anche un pulsante di scelta rapida e una gomma. La penna non necessita di configurazioni o ricariche, rendendola immediatamente pronta all'uso. Inoltre, grazie al nuovo sistema Active Canvas, è possibile scrivere direttamente sulle pagine di libri e creare spazi per le note senza mai perdere il filo del testo, che rimarrà perfettamente collegato alle annotazioni. Questo dispositivo permette di utilizzare taccuini integrati per organizzare in modo efficiente appunti di riunioni, liste di cose da fare, disegni o pensieri personali. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale e inviate via email, offrendo la comodità di mantenere tutto ben ordinato in un solo dispositivo. Inoltre, documenti e file PDF possono essere importati, rendendo possibile la revisione e l'annotazione direttamente su Kindle Scribe. L'uscita ufficiale del nuovo Kindle Scribe è il 4 dicembre 2024, ma è già possibile preordinare con prenotazione al prezzo minimo garantito. Attualmente i costi variano da 429,99€ per la versione da 16GB, fino a 479,99€ per la più capiente da 64GB. Mi raccomando, non dimenticarti di iscriverti anche al nostro canale Telegram delle Offerte, dove troverai sconti imperdibili per questi e tanti altri prodotti selezionati con cura in molte categorie. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Infine, il nuovo Kindle Colorsoft Signature Edition introduce un nuovo modo di vivere la lettura digitale, portando per la prima volta i colori direttamente sullo schermo con tecnologia a inchiostro elettronico. Infatti, grazie al display a colori da 7 pollici, l'esperienza di lettura si arricchisce con copertine vivide e contenuti che prendono vita, perfetti per generi come guide di viaggio, graphic novel, fumetti, libri per bambini e altro ancora. La tecnologia Colorsoft rende possibile evidenziare i passaggi preferiti con una scelta di colori, come giallo, arancione, blu e rosa, creando un'esperienza visiva più coinvolgente e personalizzata. Il dispositivo è dotato di una luce frontale a regolazione automatica, che adatta la luminosità in base all'ambiente circostante, permettendo una lettura confortevole in piena luce solare o nell'oscurità della sera. La tonalità dello schermo è regolabile da una luce bianca a una calda luce ambrata, ideale per chi legge per lunghe ore. Inoltre, lo schermo antiriflesso garantisce una visualizzazione chiara e nitida in qualsiasi condizione di luce. Offre anche una lunga durata della batteria, che con una singola ricarica tramite USB-C può arrivare fino a 8 settimane. È possibile ricaricarlo anche in modalità wireless, utilizzando una stazione di ricarica venduta separatamente. Grazie alla memoria da 32 GB, è possibile portare con sé migliaia di libri e contenuti, tutto racchiuso in un design sottile e leggero, adatto anche a chi è sempre in movimento. Resistente all'acqua, permette una lettura senza preoccupazioni, anche in ambienti come piscine o vasche da bagno. Kindle Colorsoft Signature Edition rappresenta un'evoluzione tecnologica che unisce l'arte della lettura alla bellezza del colore. In uscita a breve può essere già preordinato al costo di 299,99 euro. Vi ricordo che per raggiungere tutte le offerte Amazon selezionate per questi nuovi Amazon Kindle, potete farlo comodamente dai link che trovate qui sotto in descrizione o nel primo commento. Vi lascio anche i link ad accessori utili da abbinare al vostro nuovo Kindle, come le custodie originali e caricatori rapidi. Infine vi informo che chi è già abbonato ad Amazon Prime, può avere accesso al servizio di Prime Reading, che offre un'ampia selezione di libri elettronici già compresi nell'abbonamento. Per i lettori più esigenti c'è anche il servizio di Kindle Unlimited, che necessita di un abbonamento a parte, ma che offre accesso illimitato a milioni di titoli e abbonamenti a riviste già inclusi. Insomma, Amazon Kindle è un vero e proprio universo da esplorare e scoprire, creato appositamente per chi ama i libri e la conoscenza. Grazie a tutti.